questa mattina lo ammetto siamo entrambi un po' vattati sarà l'ora tarda che abbiamo fatto alla fine siamo andati a dormire alle 1.40 o forse anche le quattro sambu che abbiamo bevuto o la bottiglia di vino che abbiamo bevuto comunque ci stiamo preparando non temete si pedala anche oggi pochi chilometri 36 37 più o meno e andremo a voghera dove c'è la sagra del peperone quindi mangeremo e berremo di nuovo quindi abbiamo poche scuse siamo fatti così finisco di prepararmi ed eccoci di nuovo sulla greenway voghera varsi direzione voghera come vi dicevo prima la simo è la dietro la greenway è questa qui sempre super bella e oggi è tutta discesa fino a voghera e poi la salita ci toccherà a fare la dormireggio ma è comunque salita dolce al 2 3 per cento quindi si va ed ovviamente il nostro caffettino del quinto chilometro dobbiamo sempre prenderlo ormai è tradizione al quinto chilometro ci si ferma e si prende il caffettino oggi di fortuna siamo proprio a salice eterna c'era anche il mercatino una passeggiata e tra poco si riparte se riesce andare però col peso magari il karma oggi non ha fatto il suo lavoro perché noi abbiamo aiutato quel ragazzo con la bimba che aveva la ruota sgonfia e l'abbiamo gonfiata e adesso tempo di ripartire guardate la gomma della simo ha bucato anche lei e quindi ci tocca cambiare la camera d'aria che palle camera d'aria sostituita siamo ripartiti e niente doveva andare così e così è andata 5 minuti e per cambiare la camera d'aria poi l'altra vedremo se è da riparare o se è da buttare ne abbiamo un po' di scorta e intanto si pedala ancora quattro chilometri dovremmo esserci e poi salga del peperone e anche a bughera siamo arrivati nonostante la fortuna e siamo già in coda per il risotto col peperone questa è la coda boccuccia di fatta si mangia e ovviamente la gola ci ha fatto prendere anche i vogherini che sono delle crocchette di riso con dentro il peperone di voghera sono molto buoni ma molto caldi e molto cari e molto cari ma buoni bruciano facciamo in fretta prima che quelli di 20 anni di vice massimo scappa che ti corre dietro scappa e già oggi non è giornata eh Simo mi spiace non è giornata e ve lo spiego anche perché semplicemente ve lo faccio vedere vedete questo è una maledetta spina e guardate un po' si la Simo ha bucato di nuovo lei ride lei ride tanto la devo cambiare io meno male che ho due camere d'aria poi ho un po' di toppe ci mancano ancora otto chilometri di arrivare al camper speriamo di aver finito delle forature per oggi va bene Giappino mettiti al lavoro e cambia la camera d'aria a dopo ragazzi camera d'aria sostituita la Simo è già di nuovo in pista ci mancano otto chilometri e speriamo che vada tutto bene perché le due camere d'aria di scorta che avevo le abbiamo usate ne avevo una terza ma l'ho lasciata sul camper perché ho detto vabbè due dai basteranno e poi nel caso si passa alle toppe o dietro anche quelle però speriamo di no dai otto chilometri va bene abbiamo sudato un pochino forse più a cambiare la gomma che pedalare quindi pedala Giambino pedala Simona è record guardate qui si vede è la terza spina che prendiamo questa volta nel mio un posteriore della Simo un anteriore della Simo e adesso l'anteriore mio camera d'aria l'abbiamo finite la mia è latticizzata o la camera d'aria latticizzata non il tubeless e spero che l'abbia tappata perché l'ho tolta e la ruota non sia sgonfiata quindi spero di arrivare fino al camper ci mancano ancora sei chilometri ogni due chilometri prendiamo una spina su sto tratto qua deve esserci pieno pieno di gaggie intorno anzi adesso mi è caduta a bugherà qualcun altro va bene andiamo che giornata mi è caduta a bugherà mi è caduta a bugherà oi mi è caduta a bugherà mi è caduta a bugherà mi è caduta a bugherà quantità nonostante le forature al puffo siamo tornati la simo è stanca si stanca oggi si però com'è andata a parte le forature è caldo si oggi c'è da dire che pomeriggio ha toccato 35 gradi che per essere metà settembre è già ancora è ancora un bello impegnativo il puffo è lì completamente al sole ma adesso lo spostiamo in questa zona qui dove c'è un po d'ombra anche se sarà un po in mezzo alle balle ma almeno carichiamo le bici all'ombra e ci rinfreschiamo e ripartiamo in direzione casa e basta finita vi faremo vedere dopo sono stanchissimo oggi non dovevamo fare il quiz fino alle due molto bene siamo ormai quasi arrivati a casa a vercelli e non ci resta che fare la solita tiritera di scaricaggio biciclette scaricaggio e pulizia del camper svuotamento dei serbatoi pulizia dei serbatoi e prima o poi la pulizia anche di noi stessi perché facciamo schifo un po' ma si dice di scaricaggio no ma è la terza 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 no 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 no